inizio io questo incontro saluto a nome del vescovo di don ben vescovo ambarus lui interverrà spera per i saluti finali perché avevano un incontro invigariato e ha detto che non poteva non poteva essere per l'inizio del nostro incontro è il secondo appuntamento di quest'anno la terza edizione di questo percorso di formazione il primo due settimane fa avete chi ha ricevuto il link per email ha ricevuto anche la registrazione come abbiamo visto oppure online sul sito della carità di roma sul canale youtube è stato più un conoscere le reti internazionali e nazionali che ci sono per contrastare eh la tratta sfruttamento sessuale eh qualcuno di voi nella parte finale dell'incontro quando c'è stato lo spazio per le domande ci aveva chiesto di entrare più nel concreto e noi avevamo detto che dal prossimo incontro dopo questo dal successivo ci sarebbe stata questa concretezza oggi lo facciamo andiamo a visitare il quadro normativo in Italia eh per l'inclusione sociale e le forme di protezione per le vittime di tratta sfruttamento sessuale lo faremo con due esperti due avvocati però sono due avvocati che lavorano nel mondo del sociale ci sarà prima l'avvocato Ada Marseglia che è la rappresentante della federazione internazionale delle donne nelle carriere legali presso l'UNICEF e ci darà più uno sguardo eh sulla normativa nazionale e sugli aspetti internazionali della normativa e invece poi la l'avvocato Antonio Carlini della missione antitratta della l'Oasi Madre Cleria delle apostole del Sacro Cuore di di Avezzano ci parlerà eh più nel dettaglio di alcuni dei provvedimenti soprattutto i più recenti che sono stati fatti su questa materia eh la missione dell'Oasi di Madre Cleria poi la conosceremo nel dettaglio il prossimo incontro quando ci sarà Sor Carla che ci parlerà della ci darà la sua testimonianza quindi tra due settimane io direi di iniziare proprio dall'avvocato Marseglia quindi avremo questo percorso il quadro internazionale e nazionale della normativa e poi più aspetti nel dettaglio che farà successivamente l'avvocato Carlini lascio la parola all'avvocato Marseglia. Buonasera a tutti io mi scuso però sto avendo problemi con il collegamento al pc per cui mi collegherò tramite il video del telefonino non so se riuscite a vedermi. Sì sì vediamo e ascoltiamo perfettamente. Perfetto quindi possiamo iniziare. Eh benvenuti a questo incontro mi occuperò di tratte del relativo contesto normativo nazionale e internazionale di riferimento esponendo i passaggi storici più incisivi della legislazione. Sarà poi il collega Antonio Perlini che condividerà con me questo incontro che si occuperà di un altro aspetto più precisamente pratico dell'inclusione delle vittime di tratta. Intanto è fondamentale premettere che con la carta delle Nazioni Unite del millenovecento quarantacinque e con la dichiarazione universale dei diritti umani del millenovecento quarantotto si è aperta una nuova era nella storia dell'umanità. In questo periodo particolare dell'ordinamento internazionale è iniziata una rivoluzione copernicana dove la dignità umana diventa come il sole al centro del sistema e l'etica universale viene ricepita come norma giuridica. Quanto proclamato dalla dichiarazione universale accompagna i vari percorsi costituzionali creando un diritto internazionale che salta la vita delle persone e l'uguaglianza dei diritti. La dichiarazione universale è all'origine di una moltitudine di convenzioni giuridiche e protocolli che in questa sede possono solo essere accennati che costituiscono il corpus organico del vigente diritto internazionale a tutela e protezione delle vittime di tratta. Per l'attuazione e l'effettività di questi diritti operano organismi specializzati a livello internazionale, nazionale e locale dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite alle corti regionali. L'anima dei diritti umani si fonda quindi sulla dignità della persona. La dignità umana è un valore ed un principio di priorità assolute. La dichiarazione universale dei diritti umani è la base di molte delle conquiste del ventesimo secolo e costituisce l'orizzonte ideale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, costruita poi nel 2004 nella Costituzione Europea. Non possiamo dimenticare l'articolo 1 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che consacra la dignità umana nel preambolo in cui afferma la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata. La Corte di Giustizia ha confermato in una sentenza del duemila e uno che il diritto fondamentale della dignità umana è parte integrante del diritto dell'Unione. Che la dignità umana sia un bene costituzionalmente tutelato non vi sono dubbi. Dalla giurisprudenza costituzionale emerge con nettezza che essa non rappresenta solo uno status esistenziale comune a tutti gli esseri umani ma è anche un valore fondamentale dell'assetto costituzionale italiano fortemente affermato e ampiamente riconosciuto. Con un orientamento che non è mai mutato nel tempo la dignità umana è identificata talvolta con l'uso di sinonimi dignità della persona, dignità dell'uomo, dignità della figura umana è qualificata come valore di priorità assoluta e valore supremo che gioca un ruolo decisivo in tutte le norme dell'ordinamento giuridico. La legge 20 febbraio 1958 numero 75 è stata introdotta in Italia anche per ricepire quanto previsto dalla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e in particolare dallo sfruttamento della prostituzione adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite la quale afferma che la prostituzione è incompatibile con la dignità e il valore della persona umana. Il termine compare anche nel preambolo della carta di inizia del 7 dicembre 2000 in cui vengono convogliati tutti i diritti fondamentali dell'Unione Europea. L'articolo 2 della Costituzione evidenzia proprio la visione del principio personalista della dignità umana che deriva dal riconoscimento dell'anteriorità della persona rispetto allo stato. Infatti recita non è l'uomo in funzione dello stato ma quest'ultimo in funzione dell'uomo nel senso che il suo fine è quello di assicurare lo svolgimento della persona umana e di garantirne i diritti e pertanto questi diritti sono inviolabili. In altri termini la protezione dei diritti presuppone la centralità della persona assunta come fondamento dell'ordinamento. Non solo ma la persona umana e il riconoscimento della sua dignità sono al centro del pensiero sociale della Chiesa. L'Italia si è sempre rinformata alle convenzioni internazionali ed anche alle altre disposizioni emanate a livello europeo per la lotta al traffico degli esseri umani e per la tutela delle vittime soprattutto quando si tratta di donne e di bambini. Tra queste vanno ricordate la convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione dotata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione trecentodiciassette del dodicembre del quarantanove resta esecutiva in Italia con la legge ventitredici novembre millenovecentosessantasei numero 1173 la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata sottoscritta a Palermo ne abbiamo parlato nello scorso incontro sottoscritta dicevo a Palermo il quattordici dicembre del duemila con gli annessi protocolli rispettivamente dedicati a prevenire e combattere la tratta di persone in particolare prestando particolare attenzione a donne e bambini. è stato uno strumento per cercare di intervenire nelle attuali sistemi internazionali per identificare e punire un crimine basato sulla transnazionalità e che proprio per questa ragione è molto difficile da identificare proteggere ed assistere le vittime di tratta nel rispetto dei diritti umani. È importante evidenziare come la lotta alla criminalità organizzata costituisce un obiettivo perseguito da tempo dalle Nazioni Unite ma la sua origine da ricondurre nell'impegno nelle sedi internazionali del giudice Giovanni Falcone che la folle fortemente anche se divenne in realtà solo ad otto anni della sua morte e non a caso venne sottoscritta proprio a Palermo. La convenzione di Palermo ha avuto certamente una grande importanza nell'approccio del nostro paese ai temi della criminalità organizzata e sia la convenzione che il protocollo in questione sono stati ratificati con la legge 16 marzo 2006 numero 146. Nel 1998 in Italia comunque era stato approvato il testo unico sull'immigrazione dotando il nostro paese di strumenti innovativi nel contesto europeo per l'assistenza alle vittime di tratta. Nella legge sull'immigrazione approvata con il decreto legislativo 286 del 98 è stata inserita una specifica disposizione l'ormai famoso articolo 18 che ha istituito il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale per i cittadini stranieri nei cui confronti siano state accattate situazioni di violenza o grave sfruttamento ed emergano concretamente pericoli per la loro incolumità per effetto dei condizionamenti provenienti dell'associazione mafiosa. Lo strumento mira a proteggere l'incolumità dalle persone trafficate e consente loro di aderire ad un programma di assistenza e di integrazione sociale affidata a enti locali o soggetti privati e accreditati. Le comunità residenziali per le vittime di tratta sono comunità protette in cui vengono realizzati programmi sociali secondo l'articolo 18 del decreto legislativo 286 del del 1998 e il valore dell'articolo 18 è stato successivamente potenziato con l'introduzione di nuovi strumenti giuridici. Ci si riferisce alla legge 228 del 2003 e in particolare l'articolo 13 con il quale sono state riformulate le fatti specifiche della tratta e riduzione schiavitù con strategie prurinali di intervento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime. Ne parlerà più computamente nella sua esposizione il collega Carlini. In Europa la normativa europea livello europeo il sedici maggio del duemila e cinque il Consiglio d'Europa promulgata a Varsavia la convenzione contro la tratta degli esseri umani firmata da circa quarantatré paesi e che istituisce una commissione di esperti per monitorare e far rispettare i punti cardine della convenzione. Il 25 ottobre del duemila e sette a Lanzarote è stata firmata la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro l'assurtamento e l'abuso sessuale. Anche le corti europee si sono fatte garanti della protezione delle vittime di tratta e della persecuzione dei trafficanti. Tanto è vero che alcuni casi sono stati sottoposti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Con questo obiettivo in attuazione la direttiva eh duemila e undici e barra trentasei dell'Unione Europea recepita nel nostro ordinamento col decreto legislativo quattro marzo duemila e quattordici numero ventiquattro dando continuità all'azione di governo sul contrasto del fenomeno degli esseri umani il ministro dell'interno con il ministro per le varie opportunità hanno presentato al Consiglio dei Ministri il Piano Nazionale Antitratta duemila e ventidue duemila e venticinque. Obiettivo strategico del nuovo piano nazionale antitratta è quello di migliorare con l'approccio europeo la risposta nazionale al fenomeno della tratta agendo nel rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione in un'ottica di tutela dei diritti dei minori e più in generale delle categorie vulnerabili. Ovviamente è stata rafforzata la cooperazione fra livello istituzionale ed il privato impegnando il governo ad adottare strumenti di partenariato e collaborazione anche con altri stati interessati nell'ottica della prevenzione dei reati e della cooperazione investigativa e giudiziaria soprattutto rispetto ai paesi di origine. Con il piano nazionale ed azione contro la tratta duemila e venti duemila e venticinque si è inteso rilanciare l'azione del governo e delle istituzioni volte contrastare la tratta la linea in linea con quanto previsto dalla convenzione di Varsavia ratificata dall'Italia nel duemila e otto. Il piano è risultato un lavoro condiviso con il coinvolgimento delle cabine di regia nazionale, delle parti sociali, delle principali realtà associative nel settore della prevenzione del contrasto alla tratta dell'Isterium umana tra cui le competenti agenzie delle Nazioni Unite. L'intervento in tema di politiche di contratto alla tratta prevedono un'articolazione per direttrici secondo le linee indicate dalla convenzione di Varsavia prevenire la tratta, proteggere i diritti umani delle vittime di tratta, promuovere la cooperazione internazionale. Va menzionata anche la direttiva europea numero trentasei del duemila e undici recepita dal nostro ordinamento con il decreto legislativo del quattro marzo duemila e quattordici numero ventiquattro. La tratta degli esseri umani rappresenta una grave violazione dei diritti della persona tanto che l'ordinamento interno recependo la normativa internazionale la sanzione con misure di carattere penale. Le fattispecie coinvolte sono in particolare il reato di tratta delle persone descritta dall'articolo seicento uno del codice penale che spesso si presenta associato a reati di riduzione, mantenimento di schiavitù, articolo seicento e sfruttamento della prostituzione. Per dirla in maniera semplificata, la tratta nella sua configurazione giuridica implica il trasferimento e il trasporto illegale di una persona straniera all'interno dei confini dello Stato con l'utilizzo della violenza, dell'inganno e di ogni altra forma di coercizione. Più recentemente il decreto legge numero venti del duemila e ventitré, una strategia che prevede procedure accelerate, ha previsto in un certo modo lo smantellamento della protezione speciale ed ostacoli anche alla conversione del permesso di soggiorno in permessi considerato dando molto rilievo ai permessi in attività lavorativa, sendo una ricaduta sulla persona e sulla comunità. La lettura del decreto consegna in maniera abbastanza rigido il tentativo di rendere organico un sistema di deterrenza, non puoi arrivare, se arrivi non puoi stare, se stai per recluso non avrai permesso di soggiorno. In estrema sintesi si rivolge allo straniero, lo spaventa, annichilisce il diritto e anche la speranza. Il messaggio sociale, culturale e simbolico è tanto più nascosto nelle pieghe dei mili emendamenti che traduce un senso del potere della vita sulla persona. Assistenza delle vittime. L'assistenza deve essere specializzata attraverso la formazione degli operatori sociali e del personale delle associazioni permanente o delle associazioni in carattere permanente o a livello di volontariato. Occorre anche una sensibilizzazione dei prefuzionisti che si occupano della protezione e dell'assistenza alle vittime. Il primo contatto può avvenire anche attraverso il numero verde nazionale che è la prima fonte di informazione, un numero d'urgenza che peraltro permette di fare delle segnalazioni. Il numero verde ottocento, duecento novanta, duecento novanta. È un numero di aiuto alle vittime, di informazione e consulenza. Il primo contatto avviene attraverso il riconoscimento di vittime di tratta che va distinto dalla situazione di stranieri in posizione amministrativa irregolare. Ci sono poliziosi specializzati per il riconoscimento ma che dapprima devono guadagnarsi la fiducia delle vittime di tratta, devono informare le vittime stesse sui loro diritti e devono orientarle verso le istituzioni specializzate. Do il tempo, eh? Tre minuti, tre minuti al termine. Tre, quattro, insomma, non siamo così vicini. E allora, diciamo, di cosa dobbiamo parlare? Diciamo che c'è anche uno sfruttamento di carattere economico e quello che è più, è meno visibile, è difficilmente riconoscibile e consiste appunto nel reclutare o morsificare persone con lo scopo di sfruttarle per alcuni lavori. Spesso l'ispettorato del lavoro esercita controlli ma si trova di fronte a dipendenti privi di contratti di lavoro ma per questi laboratori non sono previsti orari di lavoro, le affermazioni sui selari sono contraddittorie e non vi è alcuna regolarità contabile. Nell'alloggio del personale che spesso si trova negli scantinati degli edifici ci sono solo vecchi materassi, la stanza è prive di luce e non c'è nemmeno la possibilità di lavarsi. Durante i controlli, durante i controlli sui posti di lavoro, i servizi di ispezione deve essere in grado anche di identificare la vittima per riconoscere segni di maltrattamento. Diciamo che a proposito delle inclusioni ci sono parecchi modelli e parecchie situazioni che si sono veramente convertite in vere e proprie inclusioni. in Puglia in particolare mi è capitato di venire a conoscenza di un ragazzo che è arrivato dal Burkina Faso e veramente in condizioni disperate ma che è riuscito anche ad inserirsi nel contesto anche lavorativo della comunità brindisina che ha messo a sua disposizione una macchina da cucire, ha messo a disposizione tutti gli elementi necessari per mettere su una sartoria e al momento lui è titolare anche di un atelier al centro della cittadina brindisina. Quindi ci sono anche delle situazioni di solidarietà che aiutano molto queste persone anche ad inserirsi al di là dell'inserimento vero e proprio di carattere istituzionale. Quello che possiamo dire è che solidarietà e comunità devono essere coese, sono concetti troppo abusati in contesti e tempi come quelli attuali che richiederebbero una concreta e immediata realizzazione. C'è bisogno di più Stato, di più dignità, per tanti volte poco noti e poco apprezzati, molto utili alla nostra economia, alla nostra agricoltura, senza i quali non sarebbe più possibile la coltivazione dei campi e la produzione agricola. E serve una nuova cultura popolare cristiana intessuta di pratiche sociali. Non abbiamo ricette o strumenti, abbiamo solo il messaggio del Vangelo. Bene. Devo smettere? No, se si vuole concludere, ecco, si sta concludendo. No, no, diciamo che la relazione è l'elemento essenziale per affiancarsi con rispetto a queste persone, ma bisogna affiancarsi in puntata di piedi, cercando di essere relazioni di iduto e fiducia. Questo ci rende consapevoli che l'integrazione è un processo decisamente complesso in cui si sovrappogono dinamiche psicologiche, relazionali, culturali e sociali che ostacolano le varie fasi del processo. Un noto filosofo diceva che l'inclusione dell'altro significa che i confini della comunità sono aperti a tutti. La nostra volontà di influenzare il corso della storia è proprio sulla capacità di accoglienza che si gioca la nostra condizione di essere umani. Nell'ultimi anni Papa Francesco, che rimane l'unica personalità internazionale che continua incessantemente a denunciare il crimine della tratta e dell'assustamento delle persone, ci ha molto sostenuto nel comprendere meglio il fenomeno e le sue conseguenze e interpretare il fenomeno anche in chiave culturale. Cioè, spinti a non voltare lo sguardo altrove, ma a chi nasce sulle ferite del prossimo e a curarle. Ci ha chiesto di accogliere, di aprire le porte, di abbattere le barriere, i confini, i muri. Ciò è possibile solo se lo sfruttamento, specialmente quello di migranti e lavoratori, smette di essere normalizzato. Io devo veramente concludere. Non so se vuole mettere a disposizione la sua relazione. Se vuole mettere a disposizione la inviamo per email a tutti i partecipanti. Lo farò successivamente e diciamo, forse non sarò stata esaustiva, però la legislazione e la normativa è abbastanza ampia, abbastanza anche complessa e non solo a livello internazionale, ma anche nazionale e soprattutto locale e regionale. Per cui probabilmente un lavoro approfondito può essere fatto in altre sedi e con un maggiore, anche forse un maggiore impegno. No, però ho già dato delle indicazioni su cui i nostri colleghi, le persone collegate possono approfondire anche da soli. Ecco, se ci mette a disposizione il suo intervento, poi così possono approfondire quelle parti. Lo rileggo e lo metto a vostra disposizione. Grazie. Grazie a lei. Lascio subito la parola all'Avvocato Cardini che completerà il quadro con gli aspetti più particolari. Buonasera, buonasera. Faccio parte dell'Oasi Madre Gleria e collaboro con Sor Carla ormai da molti anni. Sor Carla sta qui vicino a me. Io infatti sono proprio nella sede della situazione Madre Gleria. Proprio perché andiamo su strada ormai da molti anni, vi sono reso conto che la possibilità di offrire un aiuto anche dal punto di vista legale e amministrativo a queste ragazze vittime della tratta è una possibilità che dà loro ancora più fiducia verso le persone che si avvicinano. Questo perché? Perché le persone vittime della tratta vengono, diciamo, vengono, gli sfruttatori usano violenza contro queste persone anche sia da un punto di vista proprio di violenza fisica ma anche privandole dei documenti, privandole della possibilità ad esempio di avere un permesso di soggiorno, privando dei passaporti. Quindi quando una persona non ha un documento, non ha un passaporto, quando si è clandestini non ci si sente proprio delle persone, ci si sente un po' degli oggetti e non si hanno i stessi diritti. Ad esempio non si ha la possibilità di avere un medico di famiglia, non si ha la possibilità di usufruire del servizio sanitario nazionale, non si possono sottoscrivere dei contratti di locazione o non si può avere un contratto di lavoro. Quindi questo che cosa significa? Al momento in cui noi ci siamo avvicinati a queste ragazze abbiamo dato la nostra disponibilità ad aiutarle nelle stanze per ricevere un permesso di soggiorno, è chiaro che c'è stata una disponibilità maggiore da parte loro e una fiducia. È la fiducia che io sono abituato alla fiducia che i clienti ripongono nell'avvocato, ma queste ragazze verso di noi ripongono ancora, cioè la fiducia che ripongono è ancora maggiore perché praticamente ci mettono la loro vita nelle nostre mani. Quindi con cautela, diciamo, gli operatori si avvicinano alle ragazze vittime della tratta, vittime di sfruttamento sessuale e possono aiutarle anche in questo senso. Ora parliamo di permessi di soggiorno perché le persone vittime della tratta di solito provengono da paesi extraeuropei e quindi hanno necessità per soggiornare legittimamente nel nostro paese di avere un permesso di soggiorno. Ora la cosa che secondo me gli operatori devono avere ben chiaro e che possono quindi trasmettere a queste ragazze è che in ogni caso c'è la possibilità di avere un regolare permesso di soggiorno. Questo perché nonostante ci sia una battaglia di carattere ideologico su questo argomento, sugli stranieri, sui permessi di soggiorno, però qualsiasi sia colore del governo che guida la nostra nazione, la cosa importante è sapere che in Italia il diritto di asilo è garantito dalla Costituzione. C'è l'articolo 10 della Costituzione che dice che lo straniero a quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana a diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Questo significa che in ogni caso, come dicevo prima, qualsiasi sia l'ideologia del governo nel momento storico, nel determinato momento storico, comunque c'è sempre la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per asilo politico, per protezione internazionale, per protezione sussidiare, per protezione speciale. Questi sono tutti i tipi di permessi di soggiorno che diciamo sono tutte sfaccettature di una stessa fattispecie. Che cosa succede nel caso specifico? Ci si rega in questura, io l'ho fatto tante volte accompagnando queste ragazze, e si fa una istanza di permesso di soggiorno per protezione internazionale. È una cosa, una procedura abbastanza semplice. La cosa importante che bisogna portare in questura è un modulo che è la dichiarazione di ospitalità. Con questa dichiarazione di ospitalità un cittadino regolarmente soggiornante in Italia dichiara di ospitare presso la propria abitazione questa persona extra comunitaria. Bisogna portare una copia di un documento, o se non si ha, insomma si declinano le proprie generalità, delle fotografie, un marcato a bollo e si fa un versamento tramite un bollettino postale. E quindi già da quel momento si ottiene una ricevuta della presentazione del permesso di soggiorno con una fotografia. Già con questa ricevuta, diciamo così, non c'è più quella situazione di clandestinità. E quindi le ragazze vittime di tratta possono da quel momento in poi avere una situazione assolutamente diversa. Ora, a questo proposito vorrei raccontarvi una situazione specifica che ci è capitata tempo fa. Io stavo nella questura di L'Aquila per lavoro e si è avvicinato un ispettore che sapeva di questa nostra attività in favore delle ragazze vittime di sfruttamento sessuale e mi ha indicato una ragazza che era stata presa quella notte, la notte precedente, durante una retata, perché si stava prostituendo vicino il cimitero. L'ispettore mi disse, vedi se ci vuoi parlare, quindi mi sono avvicinato. Questa ragazza era tutta, diciamo, racchiusa in se stessa, in un cappotto blu, stava con la testa china e io ho provato a parlarci, lei parlava solamente in inglese e gli ho detto appunto che eventualmente se avessi avuto bisogno io potevo aiutarla, io ho lasciato il mio numero di telefono, però la sensazione che ci ho avuto in quel momento è che non mi avrebbe mai ricamato. Invece un paio di giorni dopo mi ha richiamato e cominciamo a sentirci e poi prendiamo appuntamento, anche consorcarla agli altri volontari, di andarla a trovare all'Aquila la sera successiva. Lei in un primo momento non si è fatta trovare, poi noi siamo andati in un'altra località sempre lì vicino all'Aquila e l'abbiamo trovata poi e quindi si è cominciato a estaurare questo rapporto, diciamo così, di fiducia, piano piano, fino a quando siamo riusciti a portarla via, siamo andati all'Aquila, l'abbiamo rapita tra virgolette e l'abbiamo portata qui a casa di Sorcarla. Dopo una settimana circa l'ho riaccompagnata all'Aquila perché avevamo chiaramente bisogno di regolarizzare la sua posizione amministrativa e quindi abbiamo fatto questa istanza che vi dicevo prima. In quel momento si è avvicinata la dirigente dell'ufficio immigrazione che conosceva questa ragazza prima, però non l'aveva riconosciuta e quando ha capito che era lei si è messa a piangere perché ha visto chiaramente una persona trasformata, persona trasformata nel sorriso, nell'atteggiamento, nel modo divorzi. Questo che volevo dire, che quella ragazza che prima non esisteva perché non aveva una sua identità, non aveva un suo... non c'era in quel momento, era una clandestina, dal momento in cui ha ricevuto assistenza, ha ricevuto l'affetto di una casa, ha ricevuto la possibilità di avere dei documenti, ha cambiato espressione, è diventata quella che era una ragazza di 23 anni nel pieno della della sua giovinezza. Con questo tipo di richiesta di permesso di soggiorno, già con la richiesta, i comuni hanno la possibilità di dare la residenza a queste persone. Quindi questo che cosa significa? Una volta ottenuta la residenza, come dicevo prima, c'è la possibilità di ottenere il medico di famiglia, di usufruire del servizio sanitario nazionale. È chiaro che è una rivoluzione per quanto riguarda la vita di tutti i giorni e è la possibilità anche di avere un lavoro. Ora, a tale proposito, è chiaro che bisogna cercare di sfruttare tutte le possibilità che i singoli territori mettono a disposizione per quanto riguarda l'avviamento al lavoro, per quanto riguarda i corsi di formazione, per qualsiasi cosa. È chiaro che anche le ragazze che sono state da noi ospitate, che abbiamo aiutato qui nell'OASI Madre Cledia, per quanto riguarda il lavoro le abbiamo aiutate noi, nel senso che, tra virgolette, raccomandate, siamo andati a, diciamo, abbiamo fatto dei corsi, siamo riusciti a sfruttare dei corsi di formazione e quindi, in pratica, questo che cosa significa? Che vanno accompagnate anche dal punto di vista della formazione, ma anche dell'avviamento al lavoro. Una cosa importante è che con questo documento poi possono anche prendere in locazione, ad esempio, degli appartamenti, e questo è successo anche nel nostro caso, delle ragazze che stavano qui da noi, poi successivamente, diciamo così, sono uscite, hanno preso degli appartamenti in locazione, adesso conducono una vita assolutamente normale. A prescindere da questo aspetto dei permessi di soggiorno, una cosa importante è anche l'aspetto della tutela legale riguardo eventuali denunce querele che le persone vittime della tratta possono fare nei confronti degli sfruttatori. Un altro caso particolare che vi posso raccontare è di una ragazza che stava qui da noi, da Vezano, e purtroppo veniva fatta prostituire sulla strada. Questa ragazza addirittura era proprio ridotta in schiavitù, perché durante il giorno faceva la donna di servizio e la babysitter di queste persone e la notte veniva fatta prostituire sulla strada. Quindi anche in quel caso, con Solcarla, piano piano siamo riusciti a ottenere la fiducia di questa ragazza e fino a quando poi, dopo l'ennesimo episodio di violenza, lei è riuscita ad uscire, l'abbiamo mandata in una località protetta e abbiamo provveduto a fare queste denunce querelle nei confronti di questi sfruttatori, che poi adesso hanno subito un processo per sfruttamento della prostituzione e per riduzione di schiavitù. Quindi questo significa che la possibilità, cioè l'ordinamento italiano, tutela queste situazioni, chiaramente anche da un punto di vista penale. Una cosa importante, mi riallaccio un po' al discorso generale che ha fatto la collega prima di me, è una cosa molto importante che dieci giorni fa il Parlamento europeo ha detto sia l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul, la quale Convenzione di Istanbul dice che, in pratica, che tutte le donne hanno diritto di vivere libere dalla violenza. Sembra una cosa logica, una cosa normale, però purtroppo ancora oggi non è così. Bene, ringrazio i nostri due relatori. Adesso, come solito, lasciamo uno spazio per le domande, quindi avete i microfoni liberi, chi vuole può intervenire e porre direttamente la domanda. Pronto, vi ghiaccio io con l'Avvocato Carlini, perché è stata messa in evidenza l'importanza della regolarizzazione del permesso di soggiorno, quindi regolarizzare la posizione per le cittadine non comunitari. Però abbiamo visto che nel corso degli anni questa misura, che con l'articolo 18 iniziale era molto, molto del testo unico, era fondamentale perché la maggior parte venivano da paesi in ONU è, con l'entrata di molti paesi dell'est Europa nell'Unione Europea, ha perso un po' il suo significato. Quindi le istanze sono diminuite, c'è un approccio diverso, la questione legale per le vittime comunitarie, ecco, come viene affrontata. Allora, le vittime, parliamo delle ragazze provenienti dall'est Europa, diciamo così. Le ragazze provenienti dall'est Europa, diciamo che l'approccio è, diciamo, totalmente differente. Si tratta comunque di, come nel caso in cui, nell'ultimo caso, nell'ultima fattispecie che vi ho raccontato poco fa. Quando c'è una fattispecie che riguarda la violenza, che riguarda questo sfruttamento, quindi quando queste persone non sono libere, quindi vengono sfruttate, bisogna aiutarle a denunciare questa situazione, a denunciare questa loro condizione di sfruttamento e comunque c'è la possibilità di garantire loro una protezione perché si possono, è lo Stato stesso che può proteggerle, e, diciamo così, trovando loro una sistemazione lontana da questi sfruttatori. Le pene sono abbastanza severe per quanto riguarda sia lo sfruttamento della prostituzione, sia la rivoluzione di schiavitù. Tanto è vero che gli sfruttatori non hanno nessun interesse a palesarsi. Quando c'è capitato qualche volta di riuscire a far abbandonare la strada a queste ragazze, è difficile che gli sfruttatori poi si sono fatti avanti per reclamarle, perché appunto la legge punisce lo sfruttamento della prostituzione, quindi sarebbe quasi un ammettere la propria colpa. Quindi, diciamo, il consiglio è proprio quello di, se fosse possibile, appena una volta uscita dalla strada, provvedere alla denuncia querela delle persone che sfruttavano. Posso fare io una domanda? Certo, certo. Volevo capire meglio, quando ha detto l'avvocato, dichiarazione di ospitalità, ma questa dichiarazione la fa un privato o comunque la fa il comune? Che significa affermare che la ragazza vive in casa mia, per esempio? Ho capito bene. Sì, beh, per avere questi tipi di permesso di soggiorno è necessario avere... Allora, è un modulo che si ricava anche da internet, è una dichiarazione di ospitalità. Nei piccoli centri si fa presso il comune, presso l'anagrape del comune. Nei centri un po' più grandi si fa presso il commissariato o la questura. È praticamente il cittadino regolarmente residente che, diciamo, ospita nella sua abitazione questa persona, perché altrimenti sarebbe clandestina. Questo serve sia per, diciamo, radicare la competenza della questura, ad esempio se c'è una ospitalità a Palermo, non posso andare a richiedere il permesso alla questura di Roma. Quindi è chiaro, l'ospitalità determina la competenza della questura per la richiesta del permesso di soggiorno. E l'ospitalità serve anche per avere un indirizzo in cui ricercare questa persona, in cui notificargli eventualmente un decreto di accoglimento di questa istanza di permesso di soggiorno. Buonasera, salve. Io volevo fare una domanda relativa all'articolo 18 del Stato Unico dell'Immigrazione visto che, diciamo, è stato altamente depotenziato nel corso degli anni. E volevo chiedere se le organizzazioni, se a livello giuridico, si stava pensando comunque di chiedere, di fare un emendamento per cercare di rafforzare questo articolo che ormai non garantisce più a una potenziale vittima di tratta, a una tutela adeguata. Cioè i percorsi poi per entrare in canali, cioè garantisce la protezione, ma fondamentalmente anche rispetto ai dati nazionali dell'antitratta, dell'osservatorio antitratta, le donne preferiscono fare richiesta di asilo politico che ha una protezione più lunga e delle garanzie più forti. Quindi volevo chiedere se a livello nazionale gli antitratta, le associazioni si stavano organizzando per chiedere al governo un potenziamento, un ripensamento di questo articolo. Grazie. Non so a chi rivolta la domanda, io sinceramente non so a livello nazionale che cosa stia succedendo. Certo, in questo momento questo non è un momento molto favorevole per fare istanze di questo genere. Però è pure vero che anche da un punto di vista, diciamo, quando questo tipo di permessi di soggiorno, anche quello dell'asilo politico, da un punto di vista poi delle commissioni territoriali che sono competenti per valutare queste istanze, le commissioni territoriali sono formate da persone veramente competenti che quindi riescono a valutare se ci sono i presupposti per garantire un permesso di soggiorno anche per persone vittime della tratta. Quindi, diciamo, è vero che l'articolo 18 in pratica è stato depotenziato, però la modalità per avere un permesso di soggiorno e quindi per risolvere questo problema così importante ci sono lo stesso. perché appunto nelle commissioni territoriali competenti per l'asilo politico, per la protezione internazionale, ci sono persone formate proprio e diciamo consapevoli anche di questo tipo di problematiche. Scusate, volevo fare una domanda sulla Convenzione di Istanbul. Quali sono gli impegni che l'Italia ha preso aderendo a questa Convenzione e che quindi poi devono essere magari trasformati in normative specifiche in Italia? La Convenzione di Istanbul è stata approvata dal Parlamento europeo, quindi a livello europeo l'Europa proprio finalmente insomma è entrata a far parte delle nazioni che hanno ratificato questa Convenzione di Istanbul, che risale addirittura a 2011. Tutte le donne hanno diritto di vivere libere dalla violenza, si riferisce sia alla violenza domestica, sia alla violenza sul lavoro, sia alla violenza purtroppo sulle strade. Quindi è una cosa molto generale. Poi è chiaro, quello che significa purtroppo a un livello pratico è un qualcosa di diverso, però diciamo che a un livello teorico sembra strano ma c'è ancora, ancora oggi c'è ancora bisogno di fare una convenzione su questa cosa. Grazie. Diciamo che Tunis vuole prevenire la violenza contro le donne e anche contro i bambini, la Convenzione di Istanbul. è una convenzione però che non è stata applicata diciamo anche a livello europeo. Per quanto gli stati aderenti sono soggetti al rispetto, effettivamente diciamo che anche nelle aule giudiziarie questo non accade. Ho un'esperienza personale al riguardo. Quindi è inutile, secondo il mio parere, che si sottoscrivano delle convenzioni internazionali quando poi tante normative ci sono a tutela delle donne, dei bambini, però è una normativa che rimane inattuata se poi non viene applicata. L'Italia ha firmato la Convenzione di Istanbul, mi pare, nel 2012, il 27 settembre del 2012, però anche nell'ambito del diritto di famiglia ancora ci vuole molta strada perché veramente si perfezioni l'attuazione. Questo è un grande peccato perché le normative in Italia ci sono, basta applicarle. Le normative sono tantissime e basterebbe applicare le normative esistenti per avere, diciamo, una maggiore tutela, soprattutto dei soggetti vulnerabili che sono poi donne, bambini, comunque le persone in gravi difficoltà fisiche, psichiche. C'è una normativa apposita, c'è una normativa che tutela e tutela anche abbastanza, però poi mancano i presupposti per l'attuazione nelle sedi amministrative, nelle sedi giudiziarie. Bene, allora, visto che ci avviciniamo alle 20, presumo che a questo punto Don Ben non è riuscito a collegarsi per farci il suo saluto. se ci sono altre domande, altrimenti anticipo già che fra due settimane ci vedremo con Sor Carla che è qui. Sì, sì, ecco la. Non la vediamo però lì forse. E quindi ci parlerà del dialogo con le vittime e con delle testimonianze anche, quindi sarà lei ad accompagnarci al prossimo incontro. Ringrazio i nostri due relatori. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi tutti. Spero insomma di rincontrarvi tutti, di rincontrarci tra due settimane. Ecco, ci salutiamo così semplicemente, se non ci sono altre domande o altri tipi di intervento. Va bene. Va bene, grazie. Buona sera. Buona sera da tutti. Grazie. Buona sera da tutti. Buona sera da tutti. Grazie a 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 tutti.